Qual è il parametro più importante che dobbiamo impostare sulla nostra fotocamera? Questa è una domanda che mi avete fatto in tanti. Nel corso del video di oggi andrò a darvi una parziale risposta basata sulla mia esperienza personale, per cui se volete scoprire come faccio l'esposizione delle mie fotografie, io vi consiglio di guardare questo contenuto fino alla fine. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia prevalentemente per le aziende e sovente vi porto qui su YouTube dei contenuti inerenti al mio lavoro, la mia strumentazione o anche semplicemente le vostre curiosità. Nel corso del video di oggi vado a spiegarvi qual è secondo me il parametro più importante e quindi il parametro che dovremmo impostare per primo sulla nostra fotocamera nel momento in cui realizziamo delle fotografie in manuale o in priorità poco cambia perché comunque anche in priorità si può decidere di mantenere un parametro fisso e far variare gli altri due che quindi contano di meno. Prima di cominciare però voglio ricordarvi per chi non l'avesse ancora fatto di iscriversi subito cliccando il bottone qui sotto, ragazzi io vedo dalle statistiche che il più del 50% di chi fruisce i miei contenuti non è correntemente iscritto al canale. Questo è un peccato, vi guardate alcuni contenuti senza iscrivervi e poi certi altri che magari vi piacerebbero anche di più ve li andate a perdere. Il bottone qui sotto aspetto i vostri pollici. Benissimo, ma ora come promesso andiamo a capire qual è il parametro più importante. Innanzitutto parametri della triade esposimetrica. Che cosa sono? Abbiamo i tempi per cui per quanto tempo dura la posa. Una volta si diceva per quanto tempo rimane aperto l'otturatore adesso l'otturatore su molte macchine non ce n'è anche più quindi si parla di quanto tempo la macchina deve rimanere in posa per catturare la scena. Il tempo, banalmente il tempo che serve per catturare la foto. Dopodiché abbiamo il diaframma, ovvero quanta luce l'obiettivo fa passare per ogni esposizione. E infine abbiamo il valore della sensibilità ISO. Quindi questi tre valori determinano se la nostra esposizione sarà corretta. Giusto per farvi capire di che cosa stiamo parlando andiamo a vedere i dati di esposizione che sto utilizzando io in questo momento. In questo momento nella mia ripresa io sto girando a 24 fotogrammi al secondo e quindi sto girando a un cinquantesimo di secondo quindi circa il doppio, lo shutter è circa il doppio dei fotogrammi al secondo a regola dello shutter angle quindi questo è impostato correttamente. Dopodiché abbiamo un diaframma di f1.8 che è il massimo diaframma consentito da quest'ottica. Il diaframma l'ho impostato così perché volevo lo sfondo più sfocato possibile. Il terzo parametro ovvero gli ISO sono impostati a ISO 800. Questo perché sto girando in profilo log e gli ISO base del profilo log sulla mia macchina sono ISO 800. Per cui vedete che c'è una motivazione dietro a ciascuno dei parametri che io ho utilizzato. Ma qual è quello che ho impostato per primo e qual è quello che reputo il più importante? Allora intanto faccio una digressione. Il parametro più importante ovviamente è un'astrazione perché dipende da che cosa stiamo facendo. Se stiamo facendo una posa lunga sicuramente i tempi sono il parametro più importante. Se stiamo facendo fotografia di prodotto è probabile che il diaframma sia la cosa più importante. Questo perché se stiamo facendo una posa lunga ovviamente per fare la posa lunga il parametro su cui si va ad agire sono i tempi, non ci piove. Al contrario se stiamo facendo fotografia di prodotto il parametro su cui andiamo ad agire è il diaframma perché ci interessa che il nostro prodotto sia correttamente tutto a fuoco. Quindi ci interessa di meno il tempo. Siamo su tre piede, siamo in studio. La macchina può metterci un cento venticinquesimo così come può metterci cinque secondi a fare la foto. A noi poco interessa. L'importante è che il soggetto sia tutto correttamente a fuoco. Ecco come avrete già intuito il valore ISO io lo tengo per ultimo nel senso che è difficile che il valore ISO sia determinante per la nostra fotografia. Reputo personalmente che siano più importanti gli altri due. Non che gli ISO non siano importanti ma reputo che tempi e diaframmi contribuiscano in maniera più drammatica a connotare la nostra immagine. Quindi da questo punto di vista una variazione di rumore, quindi una foto più o meno pulita e una variazione di gamma dinamica, quindi una foto con un contrasto più marcato piuttosto che una foto più bilanciata, secondo me contribuiscono di meno all'insieme dell'immagine che poi noi andiamo a proporre. Per cui tengo il valore ISO per ultimo e diciamo che è il valore su cui agisco maggiormente se gli altri due devo tenerli fissati per qualche motivo. In parole povere facciamo finta che io stia fotografando un prodotto e sia a mano libera. Io preferisco avere il mio soggetto correttamente a fuoco e quindi mettere il diaframma giusto e devo per forza avere la fotografia a fuoco, quindi non mossa, non micromossa per cui tempi e diaframmi li imposto correttamente. Gli ISO li regolerò di conseguenza. Per cui capite che per quanto mi riguarda i valori ISO sono gli ultimi che imposto perché li adeguo a quello che serve nella mia fotografia. Andiamo però a vedere che tra diaframmi e tempi c'è un po' di differenza e quindi qual è il più importante dei due. Ragazzi tenete conto che dovete prendere con le pinze quello che vi dico perché stiamo ragionando per astrazioni e vi sto dicendo quella che è la mia filosofia. In altri generi fotografici potrebbe essere il contrario. Personalmente ci sono dei casi in cui i diaframmi sono la cosa più importante in assoluto per me e vi faccio l'esempio per esempio della fotografia di interni. Quando io faccio fotografia di interni i diaframmi sono il valore più importante che io devo impostare perché se io faccio fotografia di interni a f22 avrò un sacco di diffrazione e non è il massimo della vita. Viceversa se faccio fotografia di interni a f1.4 la foto è sbagliata perché ci sarà il primo piano a fuoco e poi dietro avrò qualcosa di sfocato e quindi non va bene. È un genere fotografico un po' tecnico dove bisogna lavorare così. Quindi in quel caso il diaframma per me è il valore più importante. Però nel video di oggi io voglio parlare in senso generico. Quindi in senso generico secondo me il tempo è il valore più importante e vi voglio spiegare perché. Intanto perché col tempo si può giocare. Si possono fare molte cose col tempo. Pensate alle pose lunghe piuttosto che all'azione congelata, la goccia d'acqua che cade. Insomma si può giocare molto col tempo. Ma soprattutto secondo me il tempo è il valore genericamente a tutto tondo più importante perché è a mio parere l'unico valore che se impostato in maniera errata può portarci veramente a dei grossi danni. Mi spiego meglio. Se io sbaglio a impostare gli ISO e vi faccio un esempio. Una volta una mia conoscente io le chiesi di farmi una foto di una cosa che lei aveva a disposizione. Non importa cosa. Lei mi fece la foto. Me la fece con dei parametri che secondo me erano un pochettino a capocchia. Per cui mi mandò delle fotografie di un oggetto statico. Stiamo parlando di come se io adesso fotografassi questo microfono. Quindi è una roba ferma, statica. Io sono comodo, posso prendermi tutto il tempo. Lei mi mandò delle foto scattate a f11 con ISO 4000 e un millesimo di secondo di tempi di posa. Quali sono i valori sbagliati in questo scatto? Tutti. Perché io l'avrei fatta in maniera completamente diversa. Però il fatto di aver scattato a ISO 4000 era così invalidante da non poter nemmeno guardare la foto? No, francamente no. La foto era rumorosa, certo. Però per il resto era corretta, tant'è che poi l'abbiamo anche utilizzata per quello per cui la dovevamo utilizzare. Quindi il fatto di avere un valore ISO sbagliato, attenzione, l'esposizione era corretta. Quindi valori sballati, però l'esposizione era comunque corretta perché forse aveva scattato in automatico o in priorità addirittura. Quindi gli ISO erano cannati. Poteva mettere ISO 800 livellando gli altri parametri e veniva fuori una foto più pulita. Però il fatto che fossimo a ISO 4000 non era così invalidante in termini di resa finale. Per quanto riguarda i diaframmi, F11. Doveva usare un F11 in quel caso? Assolutamente no. Poteva usare un F4, un F5.6, ci avrebbe guadagnato più del doppio della luce. Poteva tranquillamente cavarsela così e quindi abbassare di conseguenza gli ISO. Poteva farlo tranquillamente. Ma quell'F11 era invalidante per la mia foto? La rendeva inguardabile? Assolutamente no. Anche questa volta quel parametro andava bene. E poi che cos'è che aveva usato? Aveva usato un millesimo di secondo di tempo di posa. Attenzione. In questo caso, questo dato di scatto non è invalidante. Perché è un dato sbagliato. È sbagliato. Scattare a un millesimo di secondo un oggetto statico è quasi sempre sbagliato. Perché non ce n'è bisogno. Possiamo aumentare il tempo di posa tranquillamente, lasciando entrare più luce, senza perdere nulla. E anzi guadagnandoci perché andiamo a sistemare meglio gli altri parametri. Però quello che voglio portarvi a considerare è questo. Se invece di un millesimo di secondo, lei avesse utilizzato un quindicesimo di secondo, ecco che avrebbero potuto esserci dei problemi. Vedete che il tempo è il valore in assoluto che secondo me può creare più problemi alla nostra immagine. Attenzione, stiamo parlando in senso generale e stiamo parlando con un'esposizione comunque corretta. Quindi se abbiamo cannato l'esposizione è un altro discorso. Ma di fronte a un'esposizione corretta, quindi l'immagine è come noi la volevamo in termini di esposizione, il parametro che può veramente rovinarla di più sono proprio i tempi. Perché se noi abbiamo un'immagine con gli ISO sbagliati, ok, potrebbe essere troppo rumorosa. Certo, potrebbe avere una gamma dinamica non proprio appagante. Certo, però la foto è lì. Se noi abbiamo sbagliato i diaframmi, sì, certo, è possibilissimo che abbiamo una profondità di campo troppo risicata ed è possibile che questo sia invalidante per il tipo di fotografia che stiamo facendo. Questo è possibilissimo. Però se noi abbiamo sbagliato i tempi e quindi la nostra foto è mossa, quello veramente è irrecuperabile e una foto mossa è completamente irricevibile per un cliente o per chiunque a cui la andiamo a dare. Una fotografia mossa, a meno che non sia un mosso artistico, a meno che non l'abbiamo fatto apposta, a meno che non sia una lunga esposizione, è un errore irrecuperabile. È un errore completamente irrecuperabile. Per questo motivo la mia riflessione è che i tempi siano il valore più importante che dobbiamo impostare in macchina. Questo vale anche per il video, attenzione, perché noi comunque abbiamo la regola dello shutter angle per cui nel momento in cui io giro un video devo impostare un valore, un tempo molto preciso e in questo caso è un cinquantesimo di secondo. Ma i videomaker questa cosa la sapranno già, si imposta quasi sempre, a meno di non voler ottenere effetti particolari. Però la norma vorrebbe che si imposti un valore ben preciso e di conseguenza si imposta il resto. Poi possiamo usare filtri, luci, ausili vari per aiutarci a mantenere quel parametro che noi abbiamo scelto ed è quello che faccio io, per esempio. Però comunque il parametro di partenza nella maggior parte dei casi e soprattutto nei contesti più vari sono i tempi. Pensate per esempio alla fotografia di viaggio o anche semplicemente alle foto delle vacanze. Quando stiamo facendo le nostre foto delle vacanze, se noi sbagliamo gli ISO, fa niente. Se noi sbagliamo il diaframma, in certi casi può essere seccante, ma in certi altri casi non ce ne accorgiamo nemmeno. Se sbagliamo i tempi e in particolare se i tempi sono troppo lunghi, ce ne accorgiamo sempre. Perché la foto sarà sempre mossa e sarà sempre sbagliata. Ecco perché, secondo me, il tempo è la variabile più importante o quantomeno la prima che dobbiamo considerare al fine di ottenere un'esposizione corretta e una fotografia corretta. Poi dopo pensiamo ai diaframmi, perché comunque una volta che stiamo catturando la foto con i tempi giusti pensiamo ai diaframmi, una volta che abbiamo sistemato questi due parametri pensiamo agli ISO, che non sono un parametro poco importante. Gli ISO sono determinanti in certi tipi di fotografia, dobbiamo tenerli più bassi possibile per avere una qualità maggiore, per avere meno rumore e per avere più gamma dinamica. Certo, però è un parametro che secondo me contribuisce in maniera meno drammatica allo sviluppo finale dell'immagine che noi andiamo a creare. A questo punto, amici, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, fatemi sapere se non siete d'accordo. Sono molto più interessato a sentire chi non è d'accordo con me e chi valuta diversamente i parametri perché così imparo qualcosa anch'io. Vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al canale perché ne parleremo nei commenti e verranno sicuramente pubblicati anche degli shorts verticali su questi temi, soprattutto se qualcuno di voi mi fa domande interessanti nei commenti. Vi ricordo anche di lasciare un like a questo video se avete imparato qualcosa e io, come sempre, vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie.